Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi voglio far vedere una cosa veramente fichissima. Qualche tempo fa infatti ho comprato una Stream Deck, che è una di queste cose che vi faccio vedere appunto qua in sovraimpressione. Che cos'è la Stream Deck? È semplicemente una bottoniera. Una bottoniera che è il 100% personalizzabile con tutto quello che volete. Da shortcut, potete mettere apertura di siti in particolare, quindi link a determinati siti, potete aprire applicazioni, potete anche creare delle macro. Nel senso che nel momento in cui cliccate un bottone, più cose avvengono in sequenza. Veramente una cosa fichissima e devo dire che utilizzato assieme a Figma, mi ha letteralmente cambiato la vita. Infatti anche il lavoro si è sicuramente velocizzato. Perché questo? Perché effettivamente capita spesso che magari non ci si ricorda tutte le shortcut. Ma una volta create le shortcut appunto e messe all'interno della Stream Deck non avrete più bisogno di ricordarvele perché ce l'avete tutte là. Ho creato in realtà per la Stream Deck e Figma in generale e anche FigJam tre profili che potete scaricare direttamente dal mio sito internet o da Gumroad appunto li trovate sicuramente. Quello di FigJam tra l'altro ve lo posso mettere anche in descrizione eventualmente perché tanto è gratuito e invece gli altri due per Figma sono a pagamento ma veramente pochi spiccioli. Quindi se siete interessati come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like e that's it, let's get started! Ed eccoci qua all'interno di Figma. Allora andiamo a vedere quello che possiamo fare con questo magnifico oggettino che vedete qua. Questa è appunto la Stream Deck, è la versione a 15 tasti. Come ho detto potete customizzare la Stream Deck tramite appunto l'applicazione nativa che ovviamente potete scaricare e installare, che dovete scaricare e installare per poterla customizzare. E andiamo a vedere un po' come funziona. Allora prima di tutto abbiamo una pagina iniziale che è quella dove fondamentalmente abbiamo tutte le nostre icone principali, ok? Quella che mi apre le varie applicazioni principali che utilizzo ma soprattutto anche i link a pagine web, per esempio YouTube Studio, YouTube oppure a ProNotion, a Pro Slack, eccetera, eccetera, eccetera. Quando io clicco sul bel bottoncione di Figma, ecco qua che mi apre, non solo mi apre Figma in automatico, ma mi apre anche appunto la prima pagina del profilo appunto di Figma. Come l'ho customizzato? Ovviamente la prima pagina è quella più importante dove ho appunto le azioni più importanti, per esempio abbiamo appunto azioni che toggle, questi qua sono toggle praticamente che funzionano con la stessa, praticamente con la stessa bottone, posso switchare tra una funzione e l'altra. Per esempio questo appunto è il Move e Scale, ok? Poi abbiamo lo Show Hide UI, come vedete appunto a schermo. Prendo un file qualsiasi, possiamo andare a vedere che posso fare con questo bottone Lock e Unlock appunto del livello. Vedete? Ecco qua c'è Lock e posso fare Unlock. Altra cosa molto interessante, per esempio lo Show Hide delle griglie, se per esempio andiamo a creare un layout grid, non importa quale, facciamo una colonne 20, colonne, mettiamolo al 50%, oh ecco qua. Con questo praticamente, vedete? Cosa che utilizzo praticamente tutti i momenti perché con semplicemente questo tasto io posso andare a switchare, a fare il toggle delle griglie, cosa assolutamente spettacolare. Poi abbiamo un'altra funzione, andiamo per esempio a prendere un cerchio, andiamo su una parte appunto vuota, oval, faccio un bel cerchio, metto uno stroke di, non lo so, 20 pixel, toglio il fill e voglio fare l'outline stroke, quindi andare a fare l'estrusione dello stroke. Come faccio? Semplicemente, boom, ecco qua che diventa un ellipse stroke, ok? Quindi torniamo indietro, vediamo, prima è un ellisse, ok? Posso fare tutte le cose che ovviamente posso fare appunto con un ellisse normale appunto in Figma, se però faccio appunto così, ecco qua che diventa un vero e proprio elemento appunto grafico. Molto utile quando si lavora con le icone, ok? Poi altre funzioni, tra virgolette banali, come per esempio appunto andare a creare un frame, eccolo qua, oppure andare a creare un gruppo, eccolo qua. Posso fare l'angroup, ok? Oppure posso andare a fare direttamente appunto con degli elementi, posso andare a selezionare e fare auto layout, ok? Faccio l'auto layout, li metto, no so, sotto l'altro e è buona. Non so questo perché sia così, in realtà, ah ecco perché non era dentro al suo frame, ok? E quindi, quindi niente, queste ho appunto sulle funzioni abbastanza base che però appunto ho tutto a portata di mano, insomma una cosa fichissima, fichissima, fichissima. Altre funzioni appunto abbiamo insert image, penna, il maledettissimo color picker, che questo faccio sempre fatica a ricordarmi come appunto, qual è la shortcut da tastiera. E invece, boom, ecco qua che c'ho il mio bel color picker e posso cambiare il colore quando voglio. Insomma, questo è quello che vi volevo far vedere oggi con questo breve video. Spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se volete, se siete interessati a questi profili Stream Deck, ovviamente se avete una Stream Deck, potete andare tranquillamente appunto nei link in descrizione. Vi rimanderà appunto sulla mio sito internet dove potete eventualmente acquistare questi profili. C'è pure quello per Fic Jam che è gratuito, potete scaricarlo e niente, tutto qua. E ancora una volta, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di mettere un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!